Tanta invenzione, tanta creatività qui al Forno del Longibar, questa sera la Yellow Party, ecco la dimostrazione. A cosa si brinda? A noi, a tutti noi, all'amicizia, la cosa più importante. Venite tutti al Longibar fuori orario, ci sta bene. Invita tutti gli amici a venire qui al Yellow Party. Allora, buonasera a tutti, Contrasto TV, vi invitiamo tutti quanti al fuori orario per Yellow Party. Qua, sono diventato uno mostro, qua, sono diventato uno mostro. Angelica Casaccia, fotografa ufficiale del Forno del Longibar, questa sera a Yellow Party una festa speciale, cosa è di giallo ma già è visibile. Vabbè, la giacca ovviamente. Invitiamo tutti qui a venire al Forno del Longibar. Vabbè ragazzi, vi aspettiamo qui al fuori orario per la prossima festa, ovviamente ci sarà un altro tema e ci sarà da divertirsi, vi aspettiamo al fuori orario. Si sta bene, in compagnia, insieme agli altri e si diverte tutti insieme. Saluto agli amici di Contrasto TV. Un saluto a tutti gli amici di Contrasto TV. Un saluto agli amici di Contrasto TV. P.J.J.R. Questa maglia, qualche smile, come sembra della musica. Quale sarà la prossima festa a tema? Eh, ci stiamo ancora lavorando, sarà ancora più bella di questa, più emozionante. Ecco lo speaker della serata, perché scegliere il fuori orario Longibar? Perché è unico, perché è unico come è unico anche Contrasto Television. È unico tutto, è tutto unico. Questa sera la serata è Yellow Party, ma tu non hai niente di giallo? No, perché diciamo noi siamo un po' più eleganti in console, per distinguerci. Chiaramente aspettiamo le persone, sempre in giallo, che si distinguono loro da noi. Quello party, io c'ho il limone, mangiate un limone. Contrasto TV, 2015, live, fuori orario, made in Nepal. Contrasto TV, 2015, live, fuori orario, made in Nepal.